Buonasera a tutti, sono Giulia Ferrari, sono coordinatore esterno della Commissione Formazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Per chi si è collegato ora o è entrato ora al convegno, io ripresento il relatore del prossimo seminario che è l'Avvocato Luigi D'Agosto che ci intratterrà sui temi relativi agli obblighi, gli impegni e le responsabilità dell'amministratore di condominio nell'ultima fase del suo incarico, quindi precedentemente al passaggio ad un successivo eventuale amministratore. Rinnovo i ringraziamenti che già ho espresso prima all'inizio del precedente intervento nei confronti del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri e della Virginia Gambino Editore che hanno organizzato questo evento e che hanno coinvolto il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che oggi rappresento portando i saluti della nostra Presidente Barbara Bissoli. Due annotazioni tecniche, questo convegno per chi è in presenza ha il valore di un credito informativo, vi invito a sottoscrivere la modulistica in entrata e in uscita per avere la certificazione dei crediti, per chi è invece online nel corso della relazione dell'Avvocato d'Agosto compariranno delle domande in sovraimpressione che rimarranno in sovraimpressione solo circa un minuto, quindi invito i colleghi a rispondere alle domande affinché sia certificata la presenza ai fini dell'attribuzione dei crediti. Per gli altri partecipanti e per il relatore ignorate pure le domande che servono appunto solo alla rilevazione della presenza degli Avvocati che partecipano all'evento. Vi ringrazio nuovamente, vi auguro buona persecuzione e buoni lavori e passo la parola all'Avvocato Luigi D'Agosto, Avvocato del Foro di Verona e anche lui membro della Commissione Formazione in materia di diritto commerciale, bancario e fallimentare e anche esperto in materia di diritto civile e responsabilità civile. Grazie e buon proseguimento. Ringrazio la collega Giulia Ferrari e ringrazio l'organizzazione per l'invito che ha visto la partecipazione di redattori ben più autorevoli di me. Io mi limiterò naturalmente a parlare della fase conclusiva dell'incarico dell'amministratore di condominio e dei poteri, obblighi, responsabilità insomma conseguenti o meglio inerenti appunto questa fase che ha visto insieme alla figura dell'amministratore del condominio nel suo complesso una completa rivisitazione con la legge del 2012, la 220 del 2012 entrata in vigor il 18 giugno 2013 che appunto aveva introdotto un'incisiva rivisitazione della figura dell'amministratore di condominio in termini in termini di attribuzioni, obblighi e soprattutto responsabilizzazione attraverso la previsione di garanzia e di trasparenza nella gestione del potere di controllo dell'assemblea ma soprattutto della maggior professionalità che oggi è notoriamente richiesta all'amministratore di condominio, professionalità che ovviamente maggior professionalità che si accompagna alla maggior complessità degli adempimenti e degli obblighi e quindi delle conseguenti responsabilità alle quali l'amministratore di condominio è sottoposto e che addirittura in qualche modo influiscono anche sulla annosa problematica di carattere forse più di carattere diciamo dogmatico ma non di meno rilevante anche gli effetti pratici, problematica relativa alla stesso inquadramento della figura dell'amministratore di condominio e precisamente del rapporto e del tipo di contratto che lo lega ai condomini. Come noto questa novella del 2012 aveva profondamente inciso su questa figura dell'amministratore di condominio e prevedendo a parte diciamo elevando al numero di otto i condomini necessari per poter disporre come presupposto dell'obbligatorietà della relativa nomina la previsione espressa della in caso di mancata nomina da parte dell'assemblea diciamo la possibilità la previsione della facoltà espressa di a dire il giudice anche da parte dell'amministratore di missionario per una è una diciamo delle delle questioni che peraltro riguarda chiaramente la questa fase conclusiva la fase conclusiva dell'incarico di di amministratore di condominio e peraltro facoltà che in realtà la giurisprudenza già in precedenza cioè già prima dell'entrata di di questa norma aveva riconosciuto ma che adesso ovviamente trova un riferimento espresso proprio al rinnovato articolo 1129,1 e poi è stata introdotta anche la possibilità di subordinare la nomina dell'amministratore alla presentazione di una polizza individuale di responsabilità civile che ovviamente in caso di deliberazione di lavori straordinari va adeguata ai massimali deve diciamo prevedere un adeguamento dei relativi massimali secondo quanto previsto l'articolo 1129,3 siamo sempre appunto nell'ambito di quelle norme che hanno inciso e che ovviamente non potevano richiedere un adeguamento anche delle cautele conseguenti all'aumento di responsabilità e della maggior professionalità richiesta a questa figura e ancora è stato previsto ovviamente sono stati implementati alcuni poteri alcuni doveri specifici dell'amministratore come l'obbligo di comunicare i propri dati anagrafici professionali l'obbligo di pubblicità della documentazione amministrativa condominiale e via dicendo l'obbligo di aprire il conto corrente di far di transitare diciamo le norme le somme attraverso quel conto l'obbligo di agire entro i sei mesi dalla chiusura di esercizio dell'esercizio di riferimento per la discussione forzosa delle quote condominiali salva ovviamente espressa dispensa ottenuta dall'assemblea e ovvia ancora specificamente l'obbligo all'atto di accettazione della nomina di specificare analiticamente gli importi dovuti al titolo di compenso per la questione peraltro sulla quale anche recentemente la vota di cassazione è intervenuta specificando che non basta un'indicazione di una somma complessiva ma appena di validità della nomina e quindi della conseguente delibera richiede un'analitica indicazione delle relative voci. Infine diciamo sono stati ampliati anche le ipotesi tipizzate dei gravi motivi relativi alla base della revoca dell'incarico da parte dell'autorità giudiziaria prevedendo tra l'altro esplicitamente l'omissione del rediconto che era già prevista prima ma ridotta al caso appunto in cui l'omissione si verifica anche solo per un solo anno la mancata apertura del conto del condominio l'aver consentito per un credito insoddisfatto la cancellazione delle formalità iscritte nei registri immobiliari a tutela dei condomini e l'inerzia insomma nel seguire un'azione giudiziaria finalizzata alla riscossione delle varie delle somme insomma dovute al condominio e sono state inserite disposizioni volte ad impedire la nomina di un amministratore revocato dall'autorità giudiziaria cioè in pratica l'articolo 1129,13 come tutti sanno questa versione ormai già vigente a ticci anni prevede che l'amministratore revocato dall'autorità giudiziaria non possa essere nuovamente nominato ed infine è stata estesa la relativa l'applicabilità di questa norma che disciplina la nomina e la revoca dell'amministratore a diciamo anche agli alloggi agli edifici di edilizia popolare realizzati o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione pubblica insomma e o con il concorso di enti pubblici e via dicendo la disciplina la novità importante che insomma ha fatto molto discutere poi in questo decennio e a questo punto mi magari più tardi mi soffermerò su due sentenze a mio avviso molto interessanti anche appunto dal punto di vista dogmatico è che l'articolo 1129,15 ha espressamente sancito il richiamo delle norme in materia di mandato non che questo fosse mai fosse mai stato messo in dubbio dalla giurisprudenza precedente perché comunque al di là delle diverse teorie sulla qualifica della figura dell'amministrazione di sostegno si era sempre ritenuto che le norme in materia di mandato si applicassero ovviamente anche all'incarico e peraltro anche alla sua cessazione e pur con gli opportuni adattamenti derivanti dai limiti di compatibilità in questo caso con questa norma è stato previsto che per quanto non previsto dall'articolo 1129 si applicano queste norme e quindi alla fine e da questo è un po' la premessa introduttiva e con questo concludo questa premessa introduttiva esce una disciplina che sostanzialmente prevede il concorso di due ordini di norme cioè una parte di norme che si trova nella cosiddetta sedes materia che è ovviamente contenuta agli articoli 1117 seguenti e gli articoli 61 del codice civile e gli articoli 61 seguenti delle disposizioni di attuazione poi alcune di queste norme come ovviamente saprete meglio di me sono dichiarate inderogabili tra cui proprio quella che più ci interessa da vicino che riguarda la la revoca quindi la nomina e la revoca dell'amministratore di condominio e sono citi appunto come inderogabili dall'articolo 1138,4 e poi c'è una parte di norme che invece per effetto del richiamo ma come abbiamo già detto in realtà da sempre non si è mai dubitato che le norme del mandato trovassero applicazione anche all'ipotesi del cioè alla figura dell'amministratore di condominio ma che adesso appunto trova espressa previsione nel comma 15 dell'articolo 129 e sono le norme appunto del mandato di quegli articoli 1703 seguenti delle delle codice civile norme che a sua volta questo corviglio di norme diciamo possono da un punto di vista contenutistico suddividersi in altre in due sottogruppi quelle norme che disciplinano il rapporto giuridico nel quale ovviamente peraltro come autorevolissima dottrina è stato evidenziato troverebbe proprio espressione quella funzione di ufficio di diritto privato che si è comunque pur riconosciuta in capo all'amministratore di condominio anche da quella anche da una parte di questo dei quegli strenui sostenitori della tesi che ravvisa nel rapporto di mandato dire nel rapporto di amministrazione condominiale un contratto comunque di mandato con rappresentanza o magari anche un mandato collettivo enorme che quindi riguardando diciamo la quella diciamo la funzione dell'amministratore di condominio come ufficio di diritto privato ovviamente riguardano principalmente le sue attribuzioni l'obbligo del rendiconto condominiale il potere il potere di rappresentanza che qui trova un'esplicita previsione che quindi non ricade nell'istituto della cosiddetta rappresentanza volontaria disciplinata dell'articolo 1387 seguenti del codice civile e ancora previsione di quelle previsioni dalle quali si ricava peraltro che eh che a mio avviso testimoniano anche la natura di mandato collettivo di questo eh diciamo dal punto di vista contratualistico di questa figura e cioè la previsione che tutti i provvedimenti presi dall'amministratore sono obbligatori per tutti i condomini e eh ancora eh il fatto che ehm eh ovviamente sul ehm all'amministratore ovviamente eh sono conferiti quei poteri che comunque costituiscono anche doveri e quindi in ciò si esprime il carattere della funzione di tutelare interessi del condominio per esempio come per esempio quando si tratta di ordinare lavori lavori di straordinaria manutenzione specie se di carattere urgente comunque previa comunicazione all'assemblea. E poi ci sono quelle disposizioni che regolano il rapporto più propriamente contrattuale che sono l'articolo 1129 che per quanto di più principio di interesse eh nella mia relazione riguarda nomina ma soprattutto la revoca agli obblighi dell'amministratore poi c'è l'articolo 1135 relativo alle attribuzioni dell'assemblea dei condomini l'articolo 71 bis che vale a mio parere sia come norma che regola eh il rapporto contrattuale ma anche come norma che in qualche modo disciplina il rapporto a livello di funzioni perché è esprime cioè sancisce le condizioni di onorabilità e professionalità le quali l'amministratore di condominio è tenuto ma venute le quali si determina una delle cause di cessazione del rapporto ed infine quelle norme richiamate da come dicevamo prima dal coma 15 dell'articolo 1129 che sono quelle norme del mandato e che eh soprattutto alla luce di questa rinnovata veste della figura dell'amministratore di condominio pongono alcuni problemi interpretativi e applicativi in parte a mio parere risolubili sulla base dei principi già enunciati dalla precedente giurisprudenza in parte eh diciamo da rimeditare alla luce della normativa ormai vigente nel corso dell'ultimo decennio irritiamo infatti una delle cose che un alcuni degli aspetti eh più pratici a mio parere eh più interessanti che eh queste norme eh questa eh intersecarsi di norme ha posto all'interprete anche da un punto di vista pratico eh si riguardano eh anzitutto la possibilità o meno del singolo eh diciamo ehm del singolo condomino di revocare eh diciamo di direvo di revocare l'amministratore di condominio sulla base dell'articolo 1726 eh norma che si applica in tema di mandato collettivo questione che potrebbe porsi proprio perché in realtà il condominio eh diciamo il rapporto di amministrazione è un rapporto che comunque secondo una parte della dottrina e anche della giurisprudenza è una forma di mandato collettivo e tuttavia eh la risposta non può che essere eh negativa nel senso che questa norma eh diciamo cede alle norme della sedes materia che prevedono che ovviamente il singolo condomino può chiedere certamente la revoca eh nel caso eh di particolari fatti specie che sono disciplinate al comma 11 dell'articolo 1129 mi riferisco ovviamente l'omessa eh l'omessa revisione del conto e per esempio le irregolarità eh fiscali eh oppure può chiederlo all'autorità giudiziaria ma giammai potrebbe ovviamente revocarlo di sua sponte cioè dovrebbe passare o attraverso l'assemblea o per per quelle cause che ho appena menzionato oppure per per nel caso di di giusta causa chiedere eh all'autorità giudiziaria la revoca dell'amministratore che eh ovviamente incorre in una delle violazioni sancite dal comma 12 tipizzate al comma 12 di cui è l'articolo 1129 e che però eh secondo dottrina giurisprudenza non esauriscono non costituiscono un elemento tassativo un elenco tassativo perché in realtà è solo un elenco indicativo al quale comunque il rispetto al quale l'autorità giudiziaria ha sempre con discrezionalità che ovviamente deve essere sempre motivata dal giudice a dito eh facoltà di individuare eh altre ed eventuali cause purché ovviamente caratterizzate da una gravità tale da rendere eh improseguibile il rapporto eh di questo rapporto che di fatto comunque permane di natura fiduciaria e quindi dai leader insomma il carattere fiduciario eh alla base di questo rapporto tra amministratore e eh condomini. Poi un'altra questione interessante che si è posta proprio con riferimento eh all'applicabilità di queste norme è se eh visto che l'articolo 1138,4 sancisce l'indelogabilità dell'articolo 1129 tra cui il comma 10 che eh prevede che l'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato salvo revoca per uguale anno e ancora che eh a comma 11 che comunque la sua che l'amministratore di di condominio può essere revocato in ogni tempo si chiede se visto che questa norma è sancita rispetto a questa norma è sancita l'indelogabilità posso trovare applicazione l'articolo 1725 del mandato quale norma applicabile ex articolo 1229,15 cioè quella norma in tema di un mandato che sostanzialmente prevede che in caso di mandato oneroso e e di revoca dello stesso senza giusta causa eh la il il mandatario eh il mandante eh ovviamente sia tenuto al risarcimento del danno e ancora ehm se ehm scusate allora e quindi a proposito di questa eh questione questa è una delle questioni che è tornata in voga proprio più di recente che ha visto l'intervento eh di una recentissima sentenza del duemila e ventuno la settecent la settemila ottocentosettantaquattro che a questa risposta che a questa domanda ha dato risposta positiva cioè dice in sostanza che eh poi lo vedremo magari più avanti eh dice in sostanza che poiché il rapporto eh il contratto diciamo che lega il eh l'amministratore di condominio ai condomini è un contratto riconducibile eh al mandato con rappresentanza e come san cito dall'articolo eh 1129,15 si applicano senz'altro le norme del mandato ed è un contratto che non è riconducibile a ehm alle professioni alla contratto d'opera intellettuale anche perché come è noto eh non è prevista l'iscrizione dell'amministratore eh di condominio ad un albo ehm la da questa premessa la corte di Cassazione giunge sostanzialmente a ritenere che non può applicarsi l'articolo 2237 in tema di professioni intellettuali che prevede il diritto del eh cliente committente di eh recedere in qualsiasi momento dal contratto ma proprio perché un norma eh diciamo ma un contratto riconducibile al mandato con rappresentanza è soggetto alle norme del mandato tra cui appunto l'articolo 1725 di modo che eh in caso di eh revoca senza giusta causa da parte dell'assemblea eh il condominio sarà tenuto nei confronti dell'amministratore di condominio al risarcimento del danno. Quale possa essere il danno a mio parere non potrà che essere nella sentenza in realtà non si non si ricava esattamente come venga quantificato questo danno ma a me pare che ovviamente non potrà che essere pari allo stipendio a pari al compenso che era stato originariamente patuito per l'intera durata del rapporto appunto perché si tratta di rapporto sostanzialmente determinato eh rilevo che una parte della dottrina nel duemila e quindici Cusano se non ricordo male eh aveva sostenuto che in realtà mh semplicemente l'amministratore di condominio una volta revocato senza giusta causa comunque avrebbe diritto al compenso previsto lo prevedeva però a me almeno è sembrato di coglierlo eh come una forma di diritto al compenso che in realtà non c'è perché una volta cessato il eh rapporto eh di di amministrazione di condominio il diritto al compenso viene meno nel senso che il compenso eh è quello maturato fino alla data di cessazione del rapporto ma poi semmai in in assenza di in caso di revoca in assenza di giusta causa ci troveremo di fronte a un diritto risarcitorio che appunto la corte di cassazione nella sentenza appena menzionata ha ehm ha riconosciuto. Altra questione è sempre in tema di fase conclusiva del rapporto di eh amministrazione insomma di 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 condominio è se visto che sempre parliamo di una figura che almeno secondo la parte una parte della dottrina e della giurisprudenza che riterrei poter dire massimamente maggioritarie eh si trattandosi appunto si tratterebbe appunto di mandato si possa applicare l'articolo 1727 cioè quell'articolo che prevede che per il mandatario che eh rinuncia anzitempo eh al diciamo eh all'incarico eh senza giusta causa è a sua volta tenuto a risarcire i danni al al mandante e comunque eh è previsto anche un obbligo di salvaguardia a favore del mandante prevedendo che questa rinuncia debba essere fatta in tempi e modi tali eh che consentono al mandante di provvedere altrimenti. La domanda è quindi si può applicare questa norma alla al eh all'amministratore di missionario eh visto che appunto l'amministratore eh è in qualche modo ehm un un mandatario eh con con rappresentanza la risposta eh in realtà non almeno io non ho trovato una risposta specifica nella giurisprudenza cioè specifica con riferimento alla figura del eh dell'amministratore di condominio però io ritengo che la risposta non possa che essere positiva eh e ciò per il semplice motivo che eh sia che si voglia riconoscere al mandato la qualifica di eh al chiedo scusa all'amministratore di condominio la la qualifica di mandatario con rappresentanza sia che si voglia riconoscere al eh diciamo alla figura del contratto di amministrazione la qualifica di un contratto tipico a sé sganciato da mandato e da ogni altra eh figura contrattuale individuato da una parte della dottrina come 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 vero e un contratto di amministrazione genus al quale sarebbero ascrivibili anche quei rapporti appunto di amministrazione che legano gli amministratori alle società quindi anche nelle società per intenderci bene anche in entrambi i casi non sussistono motivi per non ritenere applicabile questa normativa perché da una parte l'articolo 1129 e comunque le norme della sedes materie relative all'amministratore di condominio nulla prevedono quindi l'articolo 1129,15 quando richiama le norme del mandato che si applicano in quanto non sia diversamente previsto dall'articolo 1129 hanno pieno spazio operativo ma poi anche come dicevo anche a voler inquadrare la figura nell'ambito del di un contratto tipico contatto in amministrazione ricordo che nel 2003 la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare di precisare che la rinuncia eh che in caso di rinuncia al mandato senza giusta causa in tema di società di persone è raggiunta eh alla conclusione di applicare l'articolo 1727 anche in quel caso eh e quindi riconoscendo il diritto al risarcimento del danno ai condomini cioè in questo caso alla società e quindi qui in trattis mutanis ai condomini un principio che per le ragioni anzidette non vedo come non possa essere essere esteso anche al caso eh dell'amministratore di condominio. Infine c'è anche la questione mh che riguarda l'applicabilità ai contratti stipulati dall'amministratore con un terzo imprenditore eh delle norme sul consumo così come quello l'applicabilità ha lo stesso rapporto tra amministratore e eh condomini delle norme sulle sulle codice del consumo. Non mi soffermo su questa perché non pertiene a mio parere questa questione non pertiene particolarmente a quello di cui mi dovrei occupare oggi però evidenzio che da una parte il Tribunale di Bologna nel 2001 aveva sollevato la questione davanti alla Corte di Giustizia e che aveva peraltro l'aveva dichiarata irricevibile. La giurisprudenza giusto per inciso giusto per non lasciare la cosa qui a metà la giurisprudenza aveva eh invece insomma aveva era giunta la conclusione che eh i condomini eh rappresentino eh un soggetto non professionista ed era giunta all'affermazione generalizzata per cui assolutamente sì si applicherebbero anche le norme del codice del consumo. Io sono più concorde con quella parte della dottrina che ha rilevato come in realtà eh questa conclusione potrebbe non essere corretta nel momento in cui anche in un condominio non è detto che tutti i condomini siano soggetti non professionisti. Basti pensare a quelle strutture condominali che magari eh raccolgono sia abitazioni, faccio un esempio, ma anche soggetti che svolgono attività commerciali o comunque attività professionali eh nelle eh nelle strutture appunto inserite nella nella nel condominio. Ecco. Quindi passando allora e entrando un po' nel vivo di quella che è la fase conclusiva dell'incarico di amministratore di condominio eh beh le cause principali eh diciamo di eh cessazione del rapporto sono la scadenza nei termini che magari adesso cercheremo un po' di eh analizzare anche per le questioni pratiche a mio avviso interessanti che pongono. Poi il venir meno dei requisiti di cui alle lettere A, B, C, D, E dell'articolo settantuno bis cioè quei requisiti di onorabilità eh professionale e eh moral di e di onorabilità e professionalità richieste all'amministratore di condominio. Quei requisiti cioè che mh precluderebbero la validità di una di una delibera di assemblea eh che nominasse un amministratore privo di tali requisiti ma che venuti meno legittimano ogni condomino a chiedere ovviamente la revoca del del dell'amministratore nominato. E quali sono questi requisiti? Non mi metto ad elencarli tutti ma tanto sono sicuro che li conoscete meglio di me ma insomma sono eh i diritti civili e politici, i diritti civili, i la la l'assenza di condanne eh per reati contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'amministrazione della giustizia che per i quali e ogni altro reato non colposo per i quali sia previsto una pena nel minimo di due anni, non inferiore a due anni e ehm una pena massima pari a cinque anni. E poi vabbè l'iscrizione nel libro dei protesti, l'iscrizione nel ehm eh cioè l'applicazione di misure mh preventive, definitive, purché non sia intervenuta e di riabilitazione e via dicendo. Ci sono altri due requisiti che quell'articolo settantuno bis in realtà poneva eh come condizione per l'esercizio dell'attività, cioè in realtà come condizione che però eh ha a certi limiti eh per l'esercizio dell'attività di amministratore. Come ricorderete sono quello eh della eh di un titolo di studio del meno eh secondo di scuola superiore, secondo di secondo grado e il la la formazione l'aver seguito un corso di formazione professionale e ovviamente fermo l'obbligo del relativo aggiornamento. però queste norme come noto non si applicano nel caso di condominio ehm non comporti nel caso di ehm ehm di amministratore che sia un anche un condomino e eh non si applicano ehm nell'ipotesi in cui ehm l'amministratore in questione abbia svolto attività di amministratore nell'anno precedente per almeno un anno nel periodo diciamo precedente eh nel periodo diciamo nell'arco di tre anni precedenti all'entrata in vigore appunto eh della normativa in questione. Ehm quindi e poi ancora eh abbiamo quindi parlato del del venir meno della requisito della eh di 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 moralità di morale di 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 onorabilità e di professionalità dell'amministratore. Poi ovviamente si applicano sicuramente l'articolo i principi di quell'articolo 1722 del codice civile cioè sempre in tema di mandato e quindi la morte è evidente la rinunzia eh anche se non è non è propriamente espressamente prevista però in realtà implicitamente si ricava già anche dall'articolo 1129 che al primo comma conferisce all'amministratore di missionario il potere di chiedere all'autorità giudiziaria nell'inerzia dell'assemblea la revoca ehm la nomina del nuovo amministratore e farla appunto espressamente di amministratore di missionario e ancora eh l'interdizione di inabilitazione che in realtà però sono previsti come requisiti il cui eh il la 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 cui eh presenza preclude l'assunzione dell'incarico e la cui eh diciamo il cui verificarsi comunque porta alla conclusione del rapporto sono previsti anche dall'articolo 71 bis delle disposizioni di attuazione eh del codice eh civile e poi la revoca la revoca che può essere ovviamente tacita eh può essere anche tacita ma volevo dire la revoca assembleare e la revoca dell'autorità giudiziaria e la revoca assembleare naturalmente come dicevamo prima eh dove avevamo già anticipato la questione eh la revoca eh assembleare che ovviamente deve essere fatta con le stesse maggioranze per la nomina e quindi eh le maggioranze previste dall'articolo 1136,4 che rinvia il comma 2 e quindi metà del ehm come si dice metà del valore del del rappresentativo del valore dell'immobile e eh ma metà degli intervenuti e e poi ehm la revoca quindi dicevo la revoca assembleare e eh e poi la revoca eh della da parte dell'autorità giudiziaria. La revoca assembleare peraltro come dicevamo può essere con o senza giusta causa ne abbiamo già anticipato prima quali se quali erano quali sono le differenze le le differenze le conseguenze ma eh e la revoca ehm giudiziale che può essere chiesta da qualsiasi condomino al verificarsi di una delle eh dei casi tipizzati dall'articolo 1129,12 ma che in realtà non è elencazione tassativa e ancora ehm la dicevamo prima la revoca tacita perché anche qui una recentissima sentenza della corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire il problema dell'ammissibilità della revoca tacita sancendo espressamente che eh anche l'articolo 1724 del codice civile cioè in tema di mandato e quindi in tema di revoca tacita del mandato si applica anche al rapporto di amministrazione di amministrazione di condominio con la conseguenza che ehm la nomina di un nuovo amministratore costituisce già implicita revoca del precedente ehm allora mh uno dei problemi a mio avviso di più rilevanti interesse che si pongono a seguito di nella fase conclusiva del eh dell'amministratore di condominio è eh quali siano a parte i poteri obblighi e responsabilità ma eh guardando alla scadenza visto che la norma dice in sostanza che l'incarico dura un anno rinnovato eh rinnovabile di un altro anno ovviamente in assenza di 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 revoca da parte eh dell'assemblea di condominio il primo uno dei primi problemi che ci si è posti è se eh questa eh questo rinnovo tacito ehm eh possa operare diciamo ad libitum oppure soltanto per una volta cioè se il rinnovo previsto dall'articolo 1129 operi solo rispetto al pregresso in carico oppure se possa operare anche rispetto all'altro precedente rinnovo la questione che sembrerebbe cioè non è di lana caprina in realtà perché se fosse se davvero si aderisse alla tesi per cui non ci siano limiti al rinnovo in pratica non esisterebbe la eh non esisterebbe come causa di cessazione del rapporto la scadenza del del dell'incarico perché se ovviamente anche dopo il primo rinnovo in assenza di una revoca eh o di altro evento diciamo interruttivo del rapporto eh il il contratto è destinato a rinnovarsi in modo perpetuo ovviamente avrebbe meno una delle cause di cessazione del del rapporto ed in realtà la eh precedente giurisprudenza aveva era abbastanza salda nel dire che non solo si aveva una prorogazio dei poteri una prorogazio imperi ma in realtà non c'era nessuna norma prima ovviamente della novella di cui eh alla alla legge del duemila e dodici che eh da cui inferire eh l'inesistenza di una di una di una revoca cioè di una di un rinnovo eh diciamo ad libitum eh dell'incarico poi dopo l'entrata in vigore di questa eh di questa diciamo eh di questa norma del nuovo articolo mille centoventinove eh diciamo che mh al di là del fatto che la Cassazione a mio avviso non non ho trovato sentenze che si siano espresse della Cassazione a meno che si siano espresse sul punto ma direi che l'adesione alla tesi per cui il rinnovo possa essere solo di un anno è confermata dal fatto che la Corte di Cassazione ha sempre indicato tra le cause di cessazione del rapporto la scadenza scadenza che non si avrebbe non che non potrebbe operare autonomamente laddove il rinnovo fosse all'infinito diciamo perché altrimenti diversamente le uniche cause che potrebbero operare sarebbero il venire meno dei requisiti sostanzialmente tutte quelle cause che in un modo o nell'altro portino alla revoca ovvero alle dimissioni da parte del eh dell'amministratore e a parte ciò una cosa una notazione un po' eh di colore eh è che la il Tribunale di Bologna per esempio nel con due due provvedimenti a distanza di un anno ha detto esattamente due cose opposte nel 2018 è raggiunto la conclusione che il novellato articolo 1129 in realtà eh legittimerebbe un rinnovo sostanzialmente all'infinito e che in una sentenza dell'anno in una ordinanza dell'anno successivo dice esattamente il contrario ricongiungendosi a quella che è la la giurisprudenza che possiamo per le ragioni che ho detto prima possiamo ritenere sostanzialmente eh eh consolidata. L'altra questione quindi è eh se alla scadenza a questo punto eh se alla cosa succede alla scadenza del biegno cioè l'amministratore che alla scadenza del biegno non viene ovviamente eh rinnovato cioè non gli viene conferito un nuovo incarico e però magari nel frattempo non sia stato nominato il nuovo amministratore. La prima questione è che ha ancora poteri questo amministratore? Che poteri ha? Allora prima eh non sto seguendo proprio l'ordine delle sblaida eh però eh per mi sembrava più per continenza mi sembrava più giusto eh affrontare la questione in questo modo. Ehm allora la giurisprudenza prima della della diciamo eh della dell'intervento normativo che ha appunto riformato la figura dell'amministratore di condominio aveva detto sostanzialmente che ehm durante il ehm il periodo diciamo successivo la cessazione in attesa della sostituzione dell'amministratore di condominio la eh l'amministratore di condominio eh conservava i poteri anzitutto di rappresentanza ma non erano mancate sentenze che sostanzialmente dicevano che in questa fase di gestione interinale l'amministratore di condominio doveva svolgere tutti gli incombenti e aveva quindi tutti i poteri e doveri previsti dall'articolo 1131 del codice civile. Dopo l'entrata in vigore di questa eh diciamo eh della normativa di la normativa del duemila e dodici cioè dopo la riscrizione dell'articolo 1129 la giurisprudenza della corte di cassazione anche di recente è tornata arriva a dire che la prorogazio imperi opera naturalmente in tutti i casi di cessazione persino nei casi in cui non si ha una vera e propria cessazione sopravvenuta ma di annullabilità per esempio della delibera per mancanza di requisiti o poi in violazione di norme interrogabili e quindi di annullamento della delibera di nomina anche in quei casi si avrebbe la prorogazio imperi a meno che a meno che ed è qui uno dei punti oggetto di discussione a meno che questa revoca ehm non cioè questa cessazione non nell'ambito di in occasione di questa cessazione non siano evincibili elementi che facciano venire meno la presunzione della della conformità della dell'esistenza di questa prorogazio imperi alla volontà dei eh condomini cosa che appunto secondo la giurisprudenza della corte di cassazione anche più recente sarebbe appunto esclusa nel momento in cui ci sia stata proprio la revoca assembleare dell'amministratore eh di condominio in realtà una sentenza del tribunale del 16 marzo nel tribunale di di Roma del 16 marzo del 2021 è tornata a ribadire che la prorogazio imperi si applicherebbe sempre comunque in tutte le case anche di revoca quindi c'è anche se ripeto la corte di cassazione più recente invece ha ribadito in caso di revoca c'è una manifestazione espressa della di una volontà incompatibile con una presunzione di conformità della prorogazio imperi rispetto alla volontà dei condomi e quindi in quel caso la prorogazio imperi non dovrebbe nemmeno operare eh se non fosse nei limiti della stretta rappresentanza necessaria per esempio la rappresentanza processuale però in questo caso la prorogazio imperi indipendentemente da questa questione anche ammettendo e comunque guardando ai casi in cui la stessa deve operare a mio parere non può più operare negli stessi termini in cui magari quella parte della giurisprudenza che nella prorogazio imperi avvisava non solo una permanenza del potere di rappresentanza ma un anche un obbligo gestorio a mio avviso ovviamente oggi non può più operare diciamo con il riferimento alla riscritta figura dell'amministratore di condominio perché perché nello stesso articolo 19,8 e 2129,8 è espressamente sancito il principio per cui nel momento in cui cessa dalla carica l'amministratore di condominio oltre all'obbligo di riconsegnare tutto quanto custodito per conto dell'economico quindi tutta la documentazione e quant'altro è tenuto solo allo svolgimento di attività di attività urgenti quindi c'è proprio una vera e propria riduzione del potere dell'amministratore di condominio nella fase di accettazione nella fase di eh chiedo scusa nella fase di ehm diciamo successiva l'accessazione del del rapporto ehm allora sì queste in queste slide viene appunto un po' riassunto quella era riassunto ed era indicata la giurisprudenza eh che avevo appunto citato di cui avevo fatto menzione eh nella tematica poc'anzi trattata eh la una questione interessante è ma nel regime della prorogazio imperi quindi laddove questa operi eh è possibile revocare eh l'amministratore l'amministratore che in realtà è già cessato ma si trova in regime di prorogazio imperi beh la risposta a mio parere al di là delle di quelli che sono stati gli orientamenti che eh anche recentemente espressi non può che essere negativa sarà sicuramente negativa dove la cessazione è conseguenza già della revoca non avrebbe davvero senso mi parrebbe che un'eventuale domanda in tal senso difetterebbe proprio in modo palese del eh del requisito dell'interesse ad agire ma poi anche con riferimento alla cessazione per altre cause hm diciamo così per completezza segnalo che c'è stata una sentenza della Corte d'Appello di Bari del duemila diciannove quindi abbastanza recente che diceva sostanzialmente certo che l'amministratore comunque in serie di prorogazio può essere eh revocato perché se non fosse se non fosse ammissibile la revoca verrebbe meno la possibilità di qualsiasi controllo giudiziale sul suo operato a discapito delle minoranze dell'assemblea condominiale e di singoli condomini di senzietti la cui tutela invece è il perno essenziale della disciplina legislativa inerente alla funzione assembleare ecco ma ehm invece più correttamente secondo me il Tribunale di Bologna eh sempre in una sentenza di poco successiva dice non è assolutamente possibile pensare che durante la vigenza della prorogazio imperi ci possa essere un'azione di revoca nei confronti dell'amministratore perché perché è evidente che in quel momento non c'è nessun amministratore in carica e quindi l'unico rimedio e quindi non è neanche vero peraltro che l'assemblea rimarrebbe sguarnita di tutela perché comunque ci sarebbe il rimedio in ricorso all'istituto della nomina e nomina la qua diciamo nomina eh che può essere peraltro richiesta all'assemblea nella sua inerzia da qualsiasi condomino e che può essere richiesta anche dall'amministrazione eh di missionario e mh ancora altro problema interessante eh che cosa può fare a questo punto l'amministrazione cessato di fronte all'inizia dell'assemblea nel sostituirlo anche in considerazione del fatto che l'amministratore cessato eh che comunque ha degli obblighi di eh salvaguardia nei confronti del condominio in particolare ha comunque è comunque responsabile dello svolgimento di quelle attività urgenti eh indifferibili eh violando ovviamente il quale violando il quale obbligo sarebbe sicuramente esposto a a rimedio risarcitorio e quindi ha ha senz'altro un interesse a chiedere cioè a a vedere una sollecita diciamo a sollecitare l'assemblea nel sostituirlo beh già prima di questa novella eh ovviamente eh era stata riconosciuta anche all'amministratore eh non condomino quindi all'amministratore diciamo professionali in stesso lato che non fosse stato riconfermato nel carico che si fosse dimesso era già stato sempre riconosciuto che anche nei casi di revoca o di annullamento eh della eh per illegittimità della relativa deliberazione di nomina avesse comunque il potere di convocare l'assemblea ed eventualmente la legittimazione a ricorrere all'autorità giudiziaria affinché provveda appunto alla nomina del nuovo amministratore nel caso in cui l'assemblea eh pur sollecitata insomma non avesse provveduto alla sua sostituzione e questo potere è evidente a mio parere che non può che essere riconosciuto tanto più oggi che laddove l'articolo 1129 testualmente che pur testualmente si riferisce solo all'amministratore di missionario ma non è pensabile non possa essere esteso e quindi in applicazione del principio già affermato da una giurisprudenza consolidata nella pregressa disciplina ehm questo principio non può non essere riconosciuto all'amministratore a qualsiasi titolo evidentemente uscente poi come dicevamo la seconda causa di eh per diciamo di 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 cessazione del rapporto dicevamo è la perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità e ne abbiamo già parlato poc'anzi eh all'in già all'inizio insomma evidenziando come quelli di cui alle lettere da A a E appunto comportano la cessazione del rapporto e segnatamente eh il potere di ciascun condomino di convocare senza formalità l'assemblea per la nuovina per la nomina del nuovo eh amministratore ehm le cause abbiamo già previsto anche abbiamo già parlato anche menzionato delle altre cause eh di cessazione dell'incarico poi c'è la revoca dell'amministratore di condominio eh che forse l'aspetto un po' più interessante vedo che è già passato parecchio tempo quindi cerco un po' di velocizzare allora ehm qua sulla revoca assembleare abbiamo detto le maggioranze quali sono sono quelle sono esattamente le stesse ehm per la nomina ehm può avvenire con o senza giusta causa può avvenire alla scadenza dell'annualità cioè prima della eh diciamo del rinnovo che se no sarebbe automatico perché dopo il rinnovo ci sarebbe la la cessazione sarebbe direttamente per scadenza del bienio e dell'incarico può avvenire con o senza giusta causa dicevamo però se avviene senza giusta causa oramai alla luce ormai del del dell'orientamento espresso e che a me parli più corretto al di là del fatto che lo ha detto la Cassazione in quest'ultima sentenza e in caso di eh di revoca senza giusta causa avrà senz'altro il diritto al risarcimento del danno poi eh ai fini della valutazione della giusta causa è chiaro che eh verranno in rilevanza anzitutto le fattispecie già codificate dall'articolo 1129 commi 1 e 12 ma si deve ritenere che ovviamente non ehm queste cause tipizzate non esauriscano il novero dei delle ipotesi di 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 revoca e ovviamente indipendentemente dalla dalla dall'attivazione della eh dell'assemblea anche l'autorità giudiziaria sul ricorso di uno o più condomini può nell'ipotesi previste dall'articolo 1129 comma 12 e comunque che come ripetiamo che ripeto non ha un non è un'elecazione tassativa può agire per la revoca ehm appunto per giusta causa ehm e queste ovviamente quali sono queste ipotesi per ricordare le principali il non aver dato notizia all'assemblea della di aver ricevuto una notifica di un atto di citazione o di un provvedimento amministrativo che esorbitino dalle sue attribuzioni e eh qui è anche peraltro qui la questa causa è prevista attraverso il richiamo nel comma 11 l'articolo 1129 l'articolo 1131 comma 3 comma comma 3 4 comma 4 in realtà che fa riferimento all'ipotesi del comma 3 e e dove è previsto anche eh espressamente risarcimento del danno è eh chiaramente eh è chiaro qual è il il rilievo di questa di questa ipotesi perché nel momento in cui si viene in qualche modo eh diciamo eh convenuti a giudizio ossia destinatari di un provvedimento e non si dà notizia all'assemblea ma oltretutto da ciò potrebbe scatolire un danno perché magari non viene esorbitando dalle sue funzioni il l'amministratore di condominio non potrebbe nemmeno in teoria eh prendere iniziative proprio perché esorbitante dalle sue attribuzioni e quindi per effetto di questa inerzia si venisse per esempio a maturare delle decadenze che comportino di fatto la perdita del diritto da far valere nell'eventuale giudizio oppure di la scadenza di un termine quindi la decadenza dalla possibilità di impugnare il provvedimento amministrativo il danno eh diciamo eh è evidente poi ovviamente il tipo di danno dipende dall'effettiva lesione che quel provvedimento o l'eventuale eh sentenza negativa dovesse chiaramente arrecare al patrimonio dei 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 condomini ehm ma ovviamente eh sono le ragioni di danno sono assolutamente evidenti poi il non rendere il conto della gestione e qui addirittura eh si è previsto limitando diciamo rispetto alla fattispecie precedente che addirittura basta non aver reso il conto per la gestione di un anno eh per per un anno e peraltro questione interessante su cui passo velocemente però è che nella giurisprudenza precedente si discuteva per si discuteva su una questione nel senso eh la parte della giurisprudenza aveva ritenuto che comunque ai fini della eh dell'adempimento di questo obbligo sarebbe bastato un'informativa semestrale dalla quale potesse potessero emergere sostanzialmente i dati fondamentali della gestione e una chiara situazione contabile eh la domanda è potrebbe valere questa giurisprudenza oggi che peraltro era discussa perché c'era anche giurisprudenza contraria evidentemente no perché l'articolo 1180 bis inserito dalla le forma del 2012 contiene una precisa ed analitica descrizione delle modalità con cui deve essere reso il conto e deve essere presentato entro 180 giorni dalla ehm come si dice ehm e che di 180 giorni successivi per la nomina per l'approvazione dell'assemblea e quindi eh in questo caso eh non c'è dubbio che una rendicontazione sommaria che non rispettasse queste prescrizioni sarebbe inutile così come non appare dubbio che anche un'approvazione unanime in magari in ritardo eh della del del rendiconto non non farebbe a mio avviso c'era stata anche qualche sentenza riguardo ma eh poche in realtà forse una o due ma eh a mio parere comunque non farebbe cessare la materia del contendere perché la violazione si sarebbe senz'altro consumata. Altro caso di 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 revoca sono le gravi irregolarità fiscali in ottemperanza eh al numero tre del 1129 cioè quello della mancata costituzione del conto corrente o di utilizzo delle somme e insomma le le tutte le le ipotesi elencate all'articolo eh 1229 comma 12 che sono insomma abbastanza tipizzate che peraltro risolvono anche alcuni problemi interpretativi rispetto alla ehm diciamo versione alla normativa giurisprudenza precedente e poiché peraltro mh è evidente che come già detto questa elencazione da una parte non esaurisce il rinnovero eh delle ipotesi possibili che potrebbero giustificare la eh la revoca e dall'altra eh in qualche modo in parte a mio avviso codificano eh delle ipotesi che già la giurisprudenza precedente aveva sussunto nell'ambito della categoria della revoca per eh gravi irregolarità eh appare a me pare interessante sinteticamente veramente con la con la con la massima sintesi evidenziare che e fa riferimento proprio a quella casistica giurisprudenziale che comunque nel corso della storia eh si è presentata con più di frequenza eh in tema di revoca dell'amministratore seppure eh anteriormente alla riforma e l'ipotesi che maggiormente riguardavano appunto l'esistenza di eh fondati sospetti di irregolarità e a tale e a tale riguardo vorremmo ricordare che eh in precedenza era stato evidenziato come eh la grave eh come dire la grave irregolarità rilevante a fine della revoca fossero avvisate in anomalie contabili connotate appunto da gravità cioè non basterebbe una non bastava una qualsiasi irregolarità ma occorre che questa sia grave e sia suscettiva di produrre un danno eh un pregiudizio immediato e grave questo diceva sostanzialmente la giurisprudenza e per esempio era stato riconosciuto proprio in un caso in cui l'amministratore non aveva aveva diciamo eh fatto affluire i versamenti delle quote condominali e dei fondi di riserva sul suo conto personale e non invece sul conto di condominio peraltro questa norma questa questa ipotesi enucleata dalla giurisprudenza precedente ora troverebbe potrebbe trovare essere ricondotta eh o quantomeno concorrere con l'ipotesi dell'articolo 1129 comma 12 numero 3 che parla esattamente di eh appunto ehm 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 mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente ehm potrebbe sicuramente essere assorbita o quantomeno concorrere perché si potrebbe ritenere che quella causa eh ricorra quando ci sia una totale inutilizzazione del conto corrente ovvero una mancata costituzione qui nel caso almeno da quello che sembra di esumersi dalla massima la sentenza integrale non l'ho trovata però eh parrebbe di esumersi di un un fatto comunque episodico cioè comunque aveva fatto affluire dei conti delle quote condominali e dei fondi di riserva ci si potrebbe quindi chiedere se una un comportamento episodico possa integrare per esempio la causa del di cui al numero 3 del comma 12 del 1129 ma anche quando anche non fosse certamente a mio avviso potrebbe valere il principio che già la giurisprudenza precedente aveva eh enunciato e aveva poco anzi citato poi eh l'esistenza di un pregiudizio eh dice la giurisprudenza occorre comunque l'esistenza di un eh pregiudizio grave e imminente l'esempio eh per fare un esempio interessante lo non è stato ritenuto che ehm la mancata convocazione ai fili dell'assemblea a fini di deliberare la partecipazione a un procedimento eh di mediazione introdotta da un condomino non costituisse irregolarità grave per da eh con il configurare l'evoca questo lo ha detto addirittura il tribunale di Milano del 2015 quindi a giurisprudenza abbastanza recente perché ovviamente non c'era un danno immediato e soprattutto grave del resto la parte cioè la mancata partecipazione cioè in quel caso non c'era perché non non era stata data prova di fatto in quel almeno in quel momento nessun giudizio contenzioso eh è risultato essere stato introdotto nei confronti del condominio certo ci si potrebbe chiedere se la conclusione sarebbe stata diversa laddove invece il giudizio fosse stato introdotto e se adesso convenza la mancata partecipazione ovviamente avrebbe costituito non solo eh argomento per l'applicazione delle spese ma magari anche l'applicazione temeraria della vita temeraria e forse allora in quell'ambito a maggior ragione eh si poteva si potrebbe ipotizzare ma bisognerebbe vedere veramente il caso specifico un'ipotesi di danno ascrivibile all'inerzia dell'amministratore poi ehm ehm un principio interessante è stato evidenziato è che chiaramente non può esserci un caso di revoca non si può parlare di irregolarità gestionali eh rilevanti ai fini della revoca nel caso in cui questi o abbiano trovato a ballo nella nelle 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 maggioranze assembleare con delibere che non sono state mai impugnate da proprio da quei condomini ricorrenti che poi vorrebbero lamentarsi del comportamento del l'amministratore oppure ogni qualvolta l'amministratore l'assemblea condominiale abbia dato l'esecuzione abbia adottato deliberazioni nulle o nullabili che l'amministratore si sia limitato ad eseguire perché in tal caso è stato giustamente a mio avviso correttamente evidenziato comunque il condomino che si ritiene leso aveva il più agevole e corretto rimedio dell'impugnazione della delibera prima di dire che l'amministratore vi avesse dato luogo vi avesse dato esecuzione eh il procedimento sul procedimento non mi soffermo evidenzia solo due cose secondo me interessanti eh la prima cosa è che ehm la 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 giurisprudenza della Corte di Cassazione fino ad oggi anche di recente da ultimo del 2020 quindi facendo riferimento a un caso in quel caso in quella sentenza eh che trovate nelle slide eh a un a un caso del 2018 eh e si è sempre detto che poiché questo procedimento in realtà non statuisce non contiene decisioni cioè il la decisione sulla revoca dell'amministratore ehm in serie appunto di azione giudiziale rivolta in tribunale da parte del condomino non comporta ad un provenimento con efficacia con attitudine alla definitività e quindi a uccidere sui diritti e obblighi in modo definitivo e per questo motivo la Corte di Cassazione ha sempre detto che eh questa mancata mancanza di attitudine alla alla definitività precludeva l'ammissibilità del ricorso eh anche del ricorso straordinario ai sensi dell'articolo cento undici della Costituzione e peraltro è raggiunta alla conclusione per cui l'unica di accezione a questa inammissibilità era il caso in cui quel provvedimento in Corte d'Appello eh diciamo nel senso una volta eh messo il decreto del Tribunale che dispone sul ricorso per la revoca e questo ovviamente è reclamabile alla Corte d'Appello e nei dieci giorni successivi e eh appunto il avverso di questo decreto della Corte d'Appello secondo la Corte di Cassazione non c'era un diritto quindi a ricorso a ricorrere per Cassazione perché questo provvedimento non era destinato alla definitività in realtà questo principio che in realtà è stato ribadito anche dopo eh l'entrata in vigore della riforma a mio parere potrebbe essere rimesso in discussione anche se vi dico che allo Stato la giurisprudenza per il momento ha affermato ha mantenuto fermo il principio del momento in cui eh si dice che l'amministratore eh revocato non può essere nominato quindi la lesione del diritto dell'amministratore qui eh appare assumere un'efficacia eh più grave e sul discorso della definitività sull'attitudine alla definitività data comunque la lesione eh diciamo eh l'evidente lesione di un diritto dell'amministratore secondo me ci potrebbe ci potrebbe quantomeno discutere. E altra notazione è che per effetto del la riforma del 2017 a tutti noto eh in sede eh nel duemilavetticinque quando entreranno in vigore le norme che hanno ampliato la competenza del giudice di pace il eh giudizio dovrà essere promosso davanti al giudice di pace e l'impugnazione davanti al tribunale ma i termini rimangono evidentemente eh gli stessi. Ehm eh l'intervento dell'autorità un'altra interessante questione eh che si era posta è se l'intervento dell'autorità giudiziaria ai fini della revoca debba ritenersi sussidiaria rispetto a una deliberazione assembleare. Vi dico già passo velocemente la dottrina dice una parte autorevole eh dottrina ehm diciamo ritiene di no cioè in realtà il condomino non è necessario non è non non è obbligato a passare prima per l'assemblea e a me pare evidente quantomeno per le ipotesi di cui eh al numero dodici ma ma anche per quelle di cui al numero undici che prevedono il potere secondo me non 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 preclude il potere del condomino di adire dire direttamente l'autorità giudiziaria ma soprattutto perché se si pensa che le ipotesi che possano giustificare una revoca del anche giudiziale del l'amministratore devono comunque essere connotate da una gravità a mio parere eh è chiaro che precludere aspettare i tempi di un'assemblea potrebbe anche non essere una soluzione accettabile anche da un punto di vista operativo e pratico ehm di questo ho già parlato eh la revoca tacita ne abbiamo già detto prima la revoca tacita intesa come conseguenza della nomina di un altro amministratore senza che sia stato revocato espressamente il vecchio eh è possibile sì la carattata di Cassazione eh già nel 2014 è raggiunta questa conclusione di tenendo applicabile l'articolo 1724 eh ci sarebbe un'interessante questione sulla su quanto tutta questa normativa e le applicazioni che la giurisprudenza ne ha fatto abbiano influiscano in parte sulla stessa qualificazione del contratto di amministrazione di condominio ma non mi soffermo perché diciamo se non per dirvi che le le tesi principali come un po' avevo anticipato in precedenza sono quella per cui il contratto di amministrazione di condominio sarebbe un mandato con rappresentanza. Altra tesi dice che in realtà convive nella figura dell'amministratore sia un mandato con rappresentanza sia un ufficio di diritto privato e questo perché diciamo la posizione dell'amministratore particolarmente complessa e non ascrivibile totalmente all'ambito della figura contrattuale in realtà contiene dei poteri e doveri nel che si esprime lo stesso concetto di funzione e soprattutto perché eh in realtà l'amministratore eh di condominio non tutela solo l'interesse dei condomini ma tutela anche un interesse non 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 solo non tutela l'interesse del singolo condomine ma della del condominio nel suo complesso ma in realtà la stessa figura è preposta in qualche modo anche a salvaguardia di interessi super individuali come dimostra anche insomma la la folta normativa eh sugli adempimenti e sulla stessa professionalità imposta al all'amministratore e ancora un'altra tesi dice che in realtà eh l'amministratore sarebbe un un organo eh perché e precisamente sarebbe addirittura una eh un rappresentante legale necessario perché sostanzialmente la sua i suoi poteri di rappresentanza non sarebbero disciplinati con nell'ambito della rappresentanza volontaria di quell'articolo 1387 del codice civile seguenti ma sarebbero già previsti a parte disciplinati ex novo proprio dalla normativa nella sedes materie e quindi in pratica eh l'amministratore diventa organo necessario cioè quell'organo attraverso il quale eh del quale si immedesima eh il condominio attraverso il quale viene espressa la relativa volontà in realtà questa tesi a mio parere a mio parere non è condivisibile perché per il semplice motivo che eh di fatto ormai è abbastanza pacifico che per quanto il condominio possa assumere una dimensione strutturata che una certa soggettività in senso lato possa essergli riconosciuta però è pacifico che non è non assurge ad una persona giuridica o ad un ente distinto dai condomini e quindi in realtà il mandato il rapporto intercorre solo tra amministratore e i condomini stessi quindi ecco questo poi era per dirvi quella qual era l'oggetto della discussione sulla figura dell'amministratore peraltro qualcuno ha detto che siccome è ammessa nell'ambito dell'amministrazione di eh condominio la 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 nomina eh la nomina tacita eh quindi l'incarico dato tacitamente eh la questione ancora è è discussa eh in questo caso quantomeno in questo caso e alcuni invece lo dicono che sempre sarebbe così l'amministratore il contratto di amministrazione di amministrazione di condominio si atteggerebbe come una vera e propria negozione un gestio infine c'è chi appunto lo abbiamo anticipato prima eh sostiene che eh o si tratta di un mandato collettivo eh misto ad un ufficio privato o un mandato con rappresentante un ufficio privato ma chi addirittura dice che è un contratto tipico a sé riconducibile nello schema del contratto di amministrazione al quale apparterebbero anche per esempio il contratto di amministrazione di società eh tesi che mh diciamo anche accogliendola qua anche laddove la si volesse accogliere eh a mio parere porterebbe la conferma come dicevo eh all'inizio eh dell'idea che eh comunque anche l'amministratore di condominio che si dimette anzitempo senza giusta causa potrebbe essere esposto al risarcimento del danno. Ricordo giusto per sull'argomento le due sentenze importanti. Una la 7874 di cui ho parlato all'inizio per dire che proprio perché l'amministratore di condominio è un mandato mandatario con rappresentanza e quindi non un ehm un professionista intellettuale eh ovviamente la sua la la ehm l'eventuale revoca dello stesso soggiace ai principi di quell'articolo 1725 e non a quelli dell'articolo 2237 del codice civile previsto per le professioni intellettuali. Ergo se viene revocato senza giusta causa dall'assemblea avrà diritto al risarcimento del danno. Ehm l'altra sentenza interessante è invece un'altra sentenza coeva del maggio duemila e ventuno sempre la si trova nelle slide ehm laddove questa sentenza afferma due principi interessanti. Il primo è che per l'amministratore di condominio nominato dal tribunale quindi non nominato dall'assemblea ma dal tribunale non si avrebbe ehm non avrebbe una figura analoga a quella di nomina assembleare proprio perché qui mancherebbe il carattere fiduciario del rapporto e quindi la conseguenza qual è? La conseguenza è che mentre per l'amministratore nominato dall'assemblea l'eventuale revoca anzitempo senza giusta causa attribuisce all'amministratore di diritto all'esercimento del danno nel caso dell'amministratore nominato dal tribunale proprio perché privo di quel rapporto fiduciario e finalizzato alla alla risoluzione di una parte specifica esigenza che è quella di eh non lasciare il condominio senza un un il suo eh amministratore senza un soggetto che lo possa rappresentare che lo possa gestire in quel caso il limite annuale e deve intendersi non come limite minimo eh come per l'amministratore di eh di nomina assembleare quindi che può essere anche rinnovato per una volta eh bensì come limite massimo la conseguenza qual è? Che l'eventuale revoca anzitempo quindi prima del decorso dell'anno dell'amministratore di nomina eh dal del tribunale non comporterebbe ovviamente nessun risarcimento del danno a favore eh del medesimo. Infine eh una così una considerazione eh sui sulla su quelli che sono i poteri gli obblighi le responsabilità dell'amministratore di condominio eh diciamo eh della fase conclusiva cioè al momento in cui cessa eh il rapporto e vado e cerco di andare al alle slide in argomento e allora vediamo un attimo scusate eccolo qua giusto per eh seguire un po' lo schema che magari è più facile diventa di più facile eh come dire comprensione. Allora qui saranno le slide che riguardavano i due principi di cui ho parlato ehm con riferimento alle due sentenze della Corte di Cassazione. Allora la questione qui è sempre quella secondo me più interessante che poi al centro di tutto è l'amministratore cessato deve continuare a esercitare le proprie funzioni fino a che non sia sostituito cosiddetta prorogazio e in che limiti. Allora come dicevo prima se la giurisprudenza precedentemente aveva detto che una parte della giurisprudenza era giunta alla conclusione che eh l'amministratore cessato comunque dovesse continuare a svolgere le attribuzioni e i compiti attribuiti dall'articolo dal vecchio evidentemente articolo 1131 perché fino a che non era sostituito non poteva dirsi cessato e a tale riguardo ricordo che una parte della dottrina diceva la dottrina distingueva tra cioè si si divideva tra chi diceva che questo era conseguenza della prorogazio imperi chi parlava di necessaria perennità dell'ufficio di amministratore di condominio chi parlava invece direttamente di ehm appunto prorogazio imperi chi invece diceva che semplicemente il mandato il mandato diciamo gestorio dell'amministratore di condominio non cessava cioè continuava e persisteva fino alla sua sostituzione insomma quale che fosse la tesi a riguardo nessuna giurisprudenza non aveva mai dubitato che è comunque una prorogazio imperi su se stesse a meno che non fosse escludibile da quei comportamenti della stessa assemblea che facessero venire meno quella presunzione di conformità della prorogazio imperi rispetto alla volontà dei condomini come per esempio nel caso di Reboca anche se ci erano e ci sono sentenze che dicono che anche nel caso di Reboca la prorogazio imperi c'è però a livello di poteri gestori il potere dell'amministratore di condominio nel momento in cui c'è in realtà poiché c'è una esplicita un'esplicita previsione dell'articolo 1229,8 a mio parere non può più essere quello pieno che è col che lo connotava in costanza di mandato e non può che essere limitato alle attività urgenti tanto che qui varrebbe quel principio affermato dalla giurisprudenza da quella parte della giurisprudenza che appunto riteneva limitati che pure riteneva anche sotto la vecchia normativa limitati i poteri gestori dell'amministratore e cioè quel principio per cui laddove l'amministratore compiesse atti di ingerenza ovviamente si potrebbe addirittura agire ai fini inibitori oltre che agli esercitori ma più che altro comunque per chiedere all'inibizione in serie di procedimento d'urgenza e poi ovviamente l'articolo 1129 prevede a coma 8 anche l'obbligo della riconsegna dei documenti l'articolo 1129 parla di obbligo di riconsigliare i documenti però la Corte di Cassazione ha espressamente affermato che in realtà deve applicarsi l'articolo 1713 tema di mandato con la conseguenza che l'obbligo di consigliare la documentazione non può che comportare anche l'obbligo di rendere il conto del proprio operato quindi un obbligo di rendi conto che sussiste non solo a livello annuale per ogni amministratore ma sussiste anche quando venga meno la sua carica per essere cessato il rapporto e attenzione la Corte di Cassazione nel recentissima sentenza 19 1436 2021 ha specificato secondo me non è era difficilmente difficilmente si poteva mettere in discussione ma ha specificato che questo obbligo di rendi conto dell'amministratore cessato sussiste anche quando l'amministratore cessato per le circostanze del caso concreto non all'amministratore cessato per le circostanze del caso concreto non possa essere riconosciuto quella prorogazio imperi di cui appunto abbiamo accennato ovviamente oltre alla riduzione dell'obbligo dello spettro dell'obbligo gestorio di cui abbiamo parlato c'è anche un principio cioè l'esclusione del compenso lo prevede la stessa norma che del resto va anche letta in correlazione con il fatto che l'articolo 1129 prevede che la specificazione di cui avevamo parlato all'inizio la specificazione analitica del compenso è condizione di validità dello stesso incarico e quindi l'eventuale delibera di nomina che non fosse seguita in serie di accettazione da una specifico preventivo quindi da una che non fosse da una specifica determinazione di un compenso in modo analitico e quindi non solo con riferimento alla somma globale ma specificata per voci e solitamente sono ovviamente i compensi e le spese ovviamente laddove non vi fosse questa specificazione analitica addirittura la nomina sarebbe nulla e in correlazione con questo è evidente che la norma del comma 8 chiarisce che i compensi durante la fase successiva alla cessazione e quindi anche per le attività urgenti in quella fase l'amministratore non ha diritto ad alcun compenso e rimane lo avevamo detto prima e concludo che in caso di revoca assembleare in assenza di giusta causa ovviamente come ha detto la corte di cassazione l'amministratore di condominio però ha sì il diritto al risarcimento del danno che a mio parere non potrà che essere quantificato sulla base del compenso patuito anche per la restante parte di tempo per la quale non abbia potuto esercitare le funzioni a causa appunto della revoca anticipata vi ringrazio così avvocato pisano io sono coordinatore della commissione ingegneri per il condominio sono un ingegnere facente parte dell'ordine allora una volevo solo una puntualizzazione lei ha citato intanto complimenti che è per esposizione molto molto completa l'unica cosa è il diciamo il contrasto parziale che c'è lasciato dal legislatore tra il l'articolo 1129 l'articolo 1135 allora nell'articolo parliamo della scadenza dell'incarico dell'amministratore allora la durata in carica dell'amministratore è pari ad un anno e il suo incarico si intende rinnovato per eventuale durata e fin qua va bene fatta salva la possibilità di revoca da parte dell'assemblea quindi perché ci sia la possibile revoca da parte dell'assemblea io ho bisogno che in assemblea sia portato all'ordine del giorno il punto della nomina o revoca dell'amministratore cosa che l'articolo 1135 lo porta come elemento dell'assemblea ordinaria di ogni anno cioè l'articolo 1135 parla sia dell'approvazione del consuntivo da rendiconto va bene sia dell'approvazione della nomina dell'amministratore sia anche dell'approvazione preventiva dell'anno successivo quindi a mio avviso e qua c'è il grande pastroccio perché io le dico che quello che si vede tra i vari amministratori è effettivamente chi lo ritiene una volta avuta la prima nomina una nomina chiamiamola ad libitum senza che ci sia alcun genere di revoca del suo mandato senza che lui abbia più l'obbligo di una maggioranza quella tipica del 1136 secondo comma e a mio avviso il legislatore voleva dire ok la durata di un anno poi una rinnovo per eventuale durata ma a questo punto dopo la prima volta che questo accade non essendoci stata una nomina nel secondo anno si ritorna ad avere la sua nomina col 1136 secondo comma ovvero terminato il primo mandato terminato il primo mandato dove io non ho bisogno del 1136 secondo comma per poter far sì che lui continui la volta successiva si ritorna alla nomina però la cosa che il 1135 mi obbliga in qualche maniera è mettere l'assemblea nella facoltà di poter decidere la revoca perché questo mi viene detto dal 1129 il 1129 mi dice fatta salva la volontà dell'assemblea di farne la revoca e perché questo accada io devo già prevedere di portare all'ordine del giorno sempre comunque questo quindi in assenza eventuale di altri candidati l'amministratore uscente rimane in carica per un altro anno perché non è avvenuta la revoca corretto? Ritengo interessante e corretto il suo ragionamento io mi sono soffermato sulla questione più che altro adesso al di là di questa questione interpretativa noi ci dovremmo chiedere se per ipotesi non fosse portata come dire non fosse messo all'ordine del giorno e non ci fosse quindi il punto sulla conferma o sulla revoca ovviamente comunque la permanenza dell'amministratore a mio avviso sarebbe comunque confermata ecco questo è un po' il punto però concordo con la lettura sicuro rimane in prorogazio imperi sicuro rimane in prorogazio imperi anche perché ma sa perché le dico cioè non è che a un certo punto una delibera comunque un verbale d'assemblea nel momento in cui non viene non viene impugnato entro 30 giorni in teoria se diciamo non vi è una una causa di nullità in qualche maniera si sana cioè obiettivamente la presenza di un amministratore che non è stato revocato pur non essendo stato nominato ma per la salvaguardia del condominio per la salvaguardia del condominio lui resta? beh certo è ovvio che se non è mi scusi il condomino ha sempre facoltà perché la revoca dell'amministratore è sempre possibile cioè indipendentemente dal fatto che vi sia una cadenza annuale dell'assemblea ordinaria quindi assolutamente a mio avviso siamo forse in quest'ottica eh ma in realtà se lei ha notato io ho citato orientamenti distinti poi in realtà purtroppo perché purtroppo guardi la verità è questa che qualsiasi cosa lei possa pensare o possa pensare io stia sicuro che qualcuno prima di noi ha già detto no no ma stia sicuro che qualcuno prima di noi lo ha già detto anche se non lo sa stia sicuro che lo ha già detto e non è inverosimile che lo si trovi nella giurisprudenza in effetti sì il problema che lei ha sollevato è assolutamente pertinente io io le dico come la penso a riguardo io penso che in realtà pur condividendo il suo rilievo indipendentemente comunque da tutto la vera questione è se per ipotesi non venisse o come dire non venisse posto all'ordine del giorno ipotizziamo questo la questione della conferma o revoca dell'amministratore che cosa succede ecco io rivolgo a lei la domanda le dico io come la penso io penso che l'amministratore venga in realtà in realtà sia confermato in forza dell'articolo 1929 ma sa perché perché penso che sia un'interpretazione non dico che sono sicuro però è un'interpretazione plausibile perché la giurisprudenza anche prima non ha mai addirittura messo ha considerato addirittura sostenibile la nomina tacita quindi in un caso di questo genere secondo me permanrebbe quale sarebbe il discorso forse ci sarebbe un'irregolarità ma non credo che questa sia tale da poter inficiare la nomina la permanenza dell'amministratore ecco era quello che forse in altra maniera avevo espresso anch'io certo allora sono d'accordo con lei fatto salvo però che in qualche maniera questa irregolarità un condomino potrebbe chiaramente impugnarla perché è un'irregolarità attenzione dell'articolo 1135 che in realtà invece prevederebbe che all'interno dell'assemblea ci fosse il punto all'ordine del giorno questo è il problema proprio dell'incongruenza della coesistenza di due cose due argomentazioni che non hanno trovato nel 1129 e 1135 il loro punto di convergenza certo grazie ringrazio grazie grazie corsisti da webinar non è ancora arrivata nessuna domanda vediamo se sollecitando dovesse arrivare qualcosa buona 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 nel caso di un condomino che di un non condomino di un delegato da parte di un condomino si presenti in assemblea si candi di essere presidente dell'assemblea porta un foglio con la revoca dell'amministratore raccoglie della metà dei condomini non la maggioranza non passa perché appunto non è la maggioranza si rifiuta di firmare il verbale come presidente dell'assemblea a quel punto un altro condomino si candida a firmare il verbale è una situazione un po' limite però appunto che è successa e che riguarda in parte l'argomento della revoca volevo soparire il riguardo e la ringrazio scusi non ho compreso perdoni non ho non ho mi può ripetere perdoni una persona delegata da un condomino che si presenta in assemblea chiedendo di fare il presidente dell'assemblea presenta un foglio con sei firme con anche persone non presenti in assemblea che non è la maggioranza del del condominio perché sono 12 unità immobiliari quindi la metà in pratica la metà vedendo che non ha è successa la sua richiesta che era quella della revoca dell'amministratore lascia l'assemblea non firma soprattutto il verbale dell'assemblea in quanto presidente insieme a segretario l'amministratore a quel punto un altro condomino firma come presidente dell'assemblea se questo procedimento è corretto semplicemente questa è la domanda francamente allora a me parrebbe senz'altro di no perché intanto la nomina cioè un altro condomino firma a che titolo come presidente dell'assemblea a che titolo in quanto ha abbandonato l'assemblea ma ci sarebbe solo lui ci sarebbe solo lui e comunque se la maggioranza non viene raggiunta se non viene raggiunta la maggioranza dell'articolo 1186 come può operare la revoca no no infatti la revoca non opera è solo la questione finale di verbalizzare il tutto nel senso che il presidente di fatto non è più il presidente di quell'assemblea e non firma ma il fatto che rimarrebbe solo lui in questo caso rimarrebbe cioè in questa assemblea rimarrebbe solo lui no no rimangono tutti i condomini e semplicemente e quindi lo eleggono come presidente nella seconda parte dell'assemblea esatto se è possibile nella seconda parte dell'assemblea eleggere un condomino in quanto chi si è rappresentato con la delega di un altro condomino di fatto poi a un certo punto si francamente mi coglie un po' a sorpresa però non vedrei motivi ostativi francamente non vedrei non vorrei dire però non vedrei adesso così però non vedrei motivi ostativi certo e per la revoca comunque è sempre la questione della maggioranza anche se sono la maggioranza è la stessa per la nomina esattamente anche se sono delle deleghe quindi possono essere solo due persone che si portano le deleghe di altri quattro ma le deleghe non c'entra niente è la questione del numero però chi interviene per delega interviene comunque in nome degli altri quindi sono considerati presenti perciò sì assolutamente certo la ringrazio ancora grazie a lei sì ne abbiamo una un po' più larga diciamo ovvero ma l'amministratore di condominio che viene sfiduciato dai condomini perché decidono di scegliere un nuovo amministratore di condominio e che temporeggia il più possibile nella consegna della documentazione e quindi libri fatture e tutto quanto e lo fa ovviamente come ripicca perché c'è rimasto male via di seguito e il nuovo amministratore non entra in carica o meglio è entrato in carica ma non ha ancora la documentazione non può operare i condomini per tutelarsi cosa possono fare? Allora allora a mio parere permane esattamente i principi permangono i principi che sono stati affermati già dalla precedente giurisprudenza in questo caso l'amministratore in carica non ha nemmeno bisogno dell'autorizzazione dell'assemblea e può agire secondo me con un settecento con un procedimento d'urgenza per ottenere la consegnare i documenti o forse anche addirittura un decreto ingiuntivo potrebbe a me verrebbe da dire comunque per ottenere forse un settecento per ottenere il rendiconto ma per la consegnare i documenti potrebbe addirittura anche secondo me agire con un decreto ingiuntivo comunque ha il potere di agire giudizialmente con gli strumenti processuali che più o meno velocemente possono consentire l'ottenimento dell'adempimento degli obblighi dell'amministratore cioè o meglio chiedo scusa degli obblighi dei istitutori del precedente amministratore revocato il nuovo amministratore ce l'ha il potere e naturalmente l'amministratore che è decaduto non può vincolare la consegna dei documenti al saldo del suo compenso le due cose assolutamente no assolutamente no è un obbligo che ha è un obbligo che ovviamente ha e a mia parere deve assolutamente ottemperare sarebbe il cattatorio ma in questo caso torniamo al caso precedente che aveva fatto l'ingegnere presente in sala l'amministratore presente in sala ma in questo caso il presidente portato da questa seconda domanda può esercitare il diritto di abbandonare ed andarsene bella domanda a me francamente cioè poiché il presidente comunque viene nominato dall'assemblea cioè a me verrebbe da dire se si verificasse comunque un impedimento qualcuno lo dovrà pur sostituire però ripeto si entriamo un po' in un campo in cui così al momento mi scoglio un po' di sorpresa dovrei un po' rivedermi le norme riguardo ma a me verrebbe da dire di sì cioè che potrebbe potrebbe accadere grazie a tutti buona serata